bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video sono tony rosa nero e sono qui di nuovo su gt online pronto per farvi vedere questo nuovissimo glitch oggi vi spiegherò ragazzi come avere il le armi completamente viola mamma mia ringrazio sempre il mio amico lightcorsa e alcuni membri della mia crew per questa nuova scoperta ovviamente comunque dovete recarvi in questa posizione ragazzi io ho scelto questa che è la più vicina a casa mia ovviamente dovete andare in qualsiasi posto all'ammunation l'importante che fate questa colorazione ora entrate nel nell'ammunation e dovete fare così ragazzi il glitch funziona con tutte non so se funziona con tutti i tipi di almi però io vi consiglio l'mg dal combattimento come vedete la colorazione come la vedete è un altro colore guardate sembra metallo però non è metallo ragazzi se la guardate bene cambia di un altro colore come vedete ragazzi dovete fare questa colorazione rosa e poi dovete mettere metallo mi sono capito bene ragazzi dovete mettere prima rosa e poi metallo e metallo una volta fatto ragazzi andate su start online trova nuova sessione una volta cosa fatto ragazzi dovete andare in una zona in una zona come si può dire ragazzi vabbè vabbè ragazzi che la faccio vedere direttamente e come vedete guardate la colorazione in una zona d'ombra dovete andare ecco non mi veniva il nome ragazzi e come vedete la colorazione è viola come vedete come vedete ragazzi spero che il glitch vi sia piaciuto lasciate tanti bel like ovviamente noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti